Ciao, ciao Wolf, ciao Gualti, buonasera a tutti, Minecraft da troppe vibes, beh sì, poi a quest'ora c'è il chilling, oggi non sarà forse un episodio chill, magari la seconda parte sì, ma la prima potrebbe non esserlo Che cos'è stato questo rumore? È stato minchia? L'avete sentito? Minchietta, che suono ha imparato? Ma che cos'era? A me stanno a saltà, ma sembra l'ender dragon, sì! Ma che cos'è? Ragazzi, voi esperti di Minecraft, delle ultime versioni, che verso era? Tornate indietro con la live, ditemi I pappagalli ripetono i mostri che sentono, è ok, ma quello che mostro era? Mio Dio, ma mi sono cagato sotto ragazzi, è stato strano Allora, allora, io partirei subito con un consiglio che mi avete dato, ossia quello di prendere la sacca di inchiostro luminescente e farci l'inchiostro luminescente Per il cartello, quindi si può fare il colorante Ok, non è un colore nuovo Oh, ora va molto meglio E io leggerei particolarmente questo cartello Lo provo, lo imparerei a memoria, me lo tatuerei Lo guarderei ogni giorno, ogni volta che mi alzo al mattino Ogni volta che esco di casa, ogni volta che torno a casa Seguirei alla lettera questo consiglio È l'unica certezza che avete nella vostra vita Fidatevi, iscrivetevi Molto bello, quello era un baby zombie Io sono sicuro che minchia abbia replicato un baby zombie O uno zombie Saranno delle giornate veramente spaventose in questa casa Allora, allora, allora Oggi se va nel nether Non per fare chissà cosa, ma io voglio assolutamente vedere quel bastione Che non sono riuscito ad esplorare con calma Visto che sono stato aggredito e non sapevo il fatto dell'oro Che me l'avete consigliato in 50 mila nei commenti Praticamente tutti quanti gli iscritti che ho adesso È ora che forgiasse almeno un pezzo d'armatura d'oro Vediamo se è vero E qualcuno si può addirittura commerciare, mi avete detto, no? Tu non farei versi strani Che me faccio però d'oro? L'elmo perché lo vedo più logro Anche se non credo che protegga molto Almeno non in questo materiale Ora mi assicurate che così facendo, no? Con la roba della Gucci, tricolore Non mi faranno più niente nel nether, no? Posso andare tranquillo Proprio senza pensieri Zen Pacifica Minchia, il pappacallo che fa venire attacchi di cuore Esatto Però si scrive con la K, ragazzi Con la K L'oro è più inutile delle tartarughe O dei panda in sto gioco? No, dai Hanno cercato di valorizzarlo un pochetto loro Cioè, prima proprio veramente non serviva a niente Tipo fa questa zappa d'oro Guardate che campo rigoglioso Proprio quello che sta fuori il mulino bianco Eh? Tecnologia agricola Oh, vi stiamo qua Non mi era mancato per niente questo posto È calda l'acqua, è tiepida L'hai miscelata bene Guarda che c'ha la spadina d'oro Perché, che ne so, ha livellato Ha fatto le mimetiche su COD Però i cinghiali ti attaccano comunque Sei ostile nei miei confronti? Ah! Sì! Sì! È comunque ostile così, a caso? Oh! Oh! Ok, ci siamo baciati in bocca È stata un'effusione A banca abbastanza lunga Ma non sapevo che ti facesse così schifo Scusa! Mai baciare un cinghiale in bocca Penso sia anche illegale Posso entrare? Si può? Hello? È permesso? Mangio del pane nel vostro ingresso Mamma mia se qui annego nella lava Mamma mia È sostanzialmente una torre in rovina Perché o si è generata male Oppure è fatta effettivamente così Ed è rarissima Che bello poter stare qua dentro senza troppa ansia Perché c'è comunque Che quello è arrabbiato? Quello è arrabbiato? Quello è arrabbiato? Che? Oh! Tu non hai visto niente? Bravo! Sei complice, eh? Non so dove girarmi ragazzi C'ho un'ansia tremenda Ok? Non c'è molto Però so che ci sono delle casse Le avevo viste Quello mi farà malissimo Ragazzi! Come mi muovo? Ma se costruisco qua dentro Si offendono? Ma vedete come non è buona educazione Andare a murare vive le persone Ho sentito un pigman che si faceva male Io non c'entro niente No, ok Quindi io Ad esempio Potrei costruirmi Un corridoio Blocco uno per uno Dove posso entrare soltanto io Che va fino alla ceste che mi serve Mi frego tutto E scappo Scappo come se ci fossero le guardie appresso E che di fatto sono guardie Lo potrei fare Ma mi servirebbe un sacco di materiale Che non è nemmeno infiammabile Quindi mi servirebbe tanta cobblestone Sì, ma potrei Cioè questa è tutta mentalità italiana ragazzi Vero stradega Sì, sì ragazzi Io li voglio svaliggiare Li voglio svaliggiare Delle loro averi Il contenuto di questa cassa Sarà mio Posso aprire la cesta Qualti? Sicuro? Nucleo cremisi Prego Pevita d'oro Piccone in diamante Con ripristino Non si è offeso nessuno? Hello? Eh boh Che ne so Non sai Ma immaginavo tipo La catastrofe L'apocalisse Cungo cremisi Piccone in diamante Incantato Altro oro Frego tutto Rubbo Rubbo Come gli youtuber Che fregano le copertine I background Da top 5 gaming L'inghiale cattivo Lì Stai buono eh Stai buono Voglio costruire Nel frattempo Voglio Tipo Evitare di cascare Nel vuoto Tipo Qua Ma se tipo Metto delle torce Poi smettono di spawnare Oppure È uguale Cioè spawnano Perché è il loro luogo È indicato Che loro debbano spawnare qui Portali la cobblestone Come blocco da costruzione Nel nether E in una delle esplosioni Sì sì Me lo ricordo Perché Vabbè La usavo contro i cast Dopo la vado a prendere Abbiamo un bel Cobblestone generator Salve Ho messo il paravento Carota d'oro Ascia d'oro Incantata Frecce Pepite Mio tutto Tu devi stare buono Soprattutto in prossimità Della lava Hai capito? Sei un po' Staccionato Ma come si generano In modo strano Ste costruzioni Tipo qui Ci vorrebbe tantissima Cobblestone Per coprire i buchi Se solo riuscissi Tipo a fare un pavimento Omogeneo Quella lava Si potrebbe coprire Ecco Vi sento eh Vi sento che vi state avvicinando Eh no eh Eh ma mo Vi è stata aggrega a tutti Eh no Era arrivato prima io Eh no 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 fratello No No Non esiste Non esiste proprio Oh Serio? Serio? Sta simmental Date me sta crema di magma Va Sto avanti Oh Non vi riesco più a piacere Ho paura di cascare il buchetto Quelli che vorrei tappare Ah posso fare i blocchi di magma Magma E non altro Con un bambino Che è tipo contentissimo Perché vede una simmental Che salta da sola Con autonomia Liscio Già finendo Che paura Che paura Non lo fare più Non lo fare più Millennial Arriva tutto Tutto impettito Fanculo mamma Adesso c'ho 12 anni Che paura Che paura Che paura Tipo adesso Tipo adesso Ma stiamo scherzando Che male che mi ha fatto Con tutta l'armatura Eh no Come ci sei arrivato qua Abbastardo Oh 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 Fa male Fa male Fa male Ma li mortacci Non ci posso credere Ma quanto sei resistenti No 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 Scusate Ma questi qui sono rispondati Proprio quando io non c'ho niente Non è rimasto lì No No Se n'è andato Robami un diamante Via 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 Oh Ma mi seguo ancora No 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 E ovunque vado C'è qualcosa che mi vuole ammazzare E basta Stava andando tutto così bene Scusa posso sedermi un attimo qui Oro Ma che vuoi Non te lo do un abbraccio Abbiamo ripreso tutto Abbiamo ripreso tutto Abbiamo ripreso tutto Levati che se mi scappa il dito sul mouse come la mucca la volta scorsa alla fine Ecco ad esempio tu che prima Un secondo fa mi volevi morto Setti troppo uno di questi Facciamo la pace Guarda subito come lo vuole E se l'è preso Ora Cos'hai da offrirmi Guarda come se lo sta guardando Cosa mi ha dato Ampolla d'acqua Ma che ce faccio Ma la posso far da solo a casa Te bevo pure in faccia Che scam Via Eh No Ma ha ridato a me Oh Cos'hai da offrirmi Mi pare autentico Cosa mi ha dato L'ossidiana Cioè che non è male eh Rispetto a spaccarla Ma me la posso procurar da solo È una slot machine E di da moglie un altro Come ci pensa Come ci pensa Che mi ha dato Carica di fuoco Cos'è Ma è il proiettile del ghast Si è il proiettile del ghast O del Del coso Del blaze Volevo provare Volevo sperimentare Ho dato qualcosa in oro Freccia spettrale Contornare bianco E poi vederlo attraverso i muri Ah ok Figo La x-ray è illegale Trapassano più nemici Puoi fare collateral Bello Posso arrecare del danno Alla tua persona Oh ho usato le frecce Quelle lì Non sto usando la spada Non sto usando la spada Fermo Fermo Ma f***o Non mi ha messo la spada No che palle Ho sbagliato slot Il mio bel loot Fa tutto qui Fuggo 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 A più riprese A più riprese Io l'ho già vissuto Questo Questo scenario Grazie Non è qui perché voglio andare però Levati Levati Poi sto con la bussola in mano Vada di via la roba mia Oh Ho un'ascia Si Almeno con questa Posso difendermi Ghast che Che spawna qui Si era mai visto Oh Davati Oh Oh Mi hai stancato Ma che cosa Vedi era così difficile Questa sfida La crema di Ghast Ma hai battato la shimmet Con l'effetto sonoro Cosa ho combinato Dov'è la mia roba Oh Questa È tipo il mio risarcimento Ma voi che state facendo qua Ho preso delle cose fighe Però ho perso Buona parte delle mie cose Ho perso pure il cannocchiale Me sa Cosa ho raccolto Ho raccolto Vabbè dell'ossidiana che mi hanno dato prima Pietra dorata Ossidiana piangente E che fa Io ho intenzione di fare Un bel magazzino sotterraneo Che poi possa anche diramarsi In mille tunnel Che mi possano portare più facilmente A delle miniere Alla metro c Con poi un lunghissimo sistema Articolato di gallerie E il principale ingresso Lo voglio fare all'interno di questa casa Ovviamente non credo che finiremo in tempo per questo episodio Perché con solo due chest Non posso andare avanti Quanto profondo Un bel po' Cosa c'è sotto casa? Aiuto! Ma io non ci credo Ho l'acquitrino sotto casa Sì sì Un giorno faremo proprio un impianto di rotaglie Nella vera metro c In modo tale che mi potrò spostare molto più velocemente Eppure nel nether Se riesco Magari il nether Utilizzo quel trick con la barca Che ho visto in giro E che mi avete consigliato pure voi Visto che si va Il quadro veloce Magari quando avrò masterato talmente tanto Quel cavolo di bastione E mi sarò liberato un po' di tutti Non è bello spaccare pietra normale Nel sottosuolo Piuttosto che quella nuova Che è lunghissima da rompere Ma? Stai occupando la mia casa abusivamente Fratello fuori di qui Io non li voglio i conquilini Fratello? Io ora vado a dormire Se non vai fuori da questa casa Casa? Prenderò dei provvedimenti Non posso chiamare la polizia eh Sono io la polizia Fuori! Io penso che il comune non interverrà Per questo abusivismo Dai Vai via No non hai capito Devi andare fuori Fuori? Fuori! Cioè ma ti occupano delle case Sta lontani e ti occupano casa Ci vanno a dormire dentro E il comune non fa niente Quindi torcia blu come funziona? Nel senso Cambia effettivamente qualcosa Hai l'illuminare Come illumina? Ma illumina di meno La torcia del Napoli Meno potente Ah fa una luce diversa Perché fa una luce diversa Questa luce bianca Cioè luce fredda Luce calda Eh però illuminano poco Cioè si è estetica però A funzionalità E efficienza Non ci siamo eh Illumina di meno infatti Quindi pure le lanterne Immagino che non saranno Tutto sto cranché Hanno truffato Sono andato a rischiammala Per niente Grazie mille Per tutta quanta la compagnia Per gli abbonamenti Insomma anche Per lo strano episodio Che c'è stato Dove è andato tutto bene Va bene ragazzi Buonanotte a tutti Grazie mille per la compagnia Ciao ragazzi Buonanotte a tutti Buonanotte a tutti